buongiorno allora l'obiettivo è quello di raggiungere i 1000 iscritti se raggiungiamo i 1000 iscritti sarà più facile per noi fare dirette perché questo ci sarà permesso anche attraverso dispositivi mobili e poi dopo al termine di questa emergenza se avete troppe iscrizioni potrete cancellare l'iscrizione stessa non vi preoccupate è solo una richiesta per potervi servire più facilmente buona giornata a tutti